Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Tira un sospiro di sollievo il gruppo dopo un inizio di settimana all'insegna delle salite. La diciottesima tappa infatti sarà praticamente tutta in discesa dopo una blanda salita iniziale e solo un gpm di quarta categoria a pieve di Alpago. Si partirà da Val d'Aora con cieli sereni o poco nuvolosi per arrivare dopo 222 km a Santa Maria di Sala dove non è esclusa invece qualche pioggia. Infatti soprattutto sui settori prealpini e sulle pianure venete sono attesi i locali temporali pomeridiani che potrebbero quindi bagnare il gruppo Maglia Rosa specie nella seconda parte della frazione. Per quello che riguarda le temperature queste rimarranno generalmente fresche con valori generalmente attorno a 18-20 gradi. Per tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul centoduesimo giro d'Italia seguite il nostro sito o il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Metri Italiano.